ciao pronti via si parte sono tantissime le cose che di cui ti voglio parlare in particolare un utente mi aveva scritto qualche settimana fa come mai non mi ero soffermato sulla guerra allora penso che in questo appuntamento oggi sia doveroso dover fare il punto della situazione in particolare farti vedere come ragiono in questo contesto di incertezza e se vogliamo di rischio partiamo subito il bund quindi l'obbligazionario tedesco ha rimbalzato su questi livelli di supporto è abbastanza diciamo naturale che cercherà di tornare su dei su questa resistenza non sono estremamente positivo sul bund quindi è una reazione doverosa per cui visto la situazione è molto probabile che anche l'america inizierà a rivedere la sua politica restrittiva sui tassi e quindi magari a marzo invece di un rialzo dello 0,50 iniziamo a scontare un rialzo più contenuto dello 0,25 in questo momento di tensione ovviamente il dollaro è un bene rifugio per cui si ha ripreso forza il dollaro perché è sempre considerato un bene rifugio e alla pari dell'oro anche l'oro come si può vedere è partito ti farò vedere poi quanto questo non sia un bel segnale per quanto riguarda la russia comunque siamo ripartiti ha rotto addirittura i livelli di 1952 quindi a questo punto se rimangono tali le tensioni è probabile che arrivi anche a 2000 però questo probabile anche che come ti farò vedere la comunità internazionale cercherà in qualche maniera di controbilanciare questo rialzo perché favorisce la russia ma te lo faccio vedere per quanto riguarda invece gli altri indici ti faccio vedere il settimanale partiamo dal crudo quindi comunque dal petrolio che ha fatto una sparata sopra i 100 dollari al barile e sta rientrando in diciamo sui 100 dollari io me lo vedevo anche prima del conflitto una possibile diciamo sparata diciamo un termine un po buttato lì visto il momento a 100 dollari vediamo è una resistenza molto importante come si può vedere ci si potrebbe anche aspettare comunque un rientro in diciamo verso aria aria 87 88 dollari del barile però è ovvio che qui adesso siamo nel ambito delle ipotesi perché vedremo poi come vanno le cose per quanto riguarda invece gli indici io questa è una linea che avevo tracciato come spartiacque diciamo e quindi un livello molto importante per quanto riguarda l'italia e neanche farlo porto ci siamo arrivati nella giornata dei meno 4 proprio a ridosso l'ha toccato in maniera non l'ho mossa di un millimetro questa linea quindi non vorrei essere preso come una cassandra comunque un meno 277 per quanto riguarda l'italia poi ha recuperato nell'ultima giornata di borsa mentre invece l'america io dicevo guardate l'america ha fatto un intraday molto negativo ma poi ha chiuso a un più 1 il nasdaq e anche lo standard ha fatto comunque un più 0 82 nella settimana il world invece è stato un po più penalizzato appunto anche dalla presenza dell'europa e comunque dall'asia che non è andata bene perché ha fatto meno 4 poi ti spiegherò anche bene l'asia e il mio punto di vista meno 1 e 7 quindi il world è l'europa adesso così lo vado a vedere veloce un meno 2 un meno 1 87 la situazione è questa quindi siamo su dei livelli molto importanti molti indici hanno invertito quindi siamo in una fase di inversione quindi spetta adesso ai rialzisti l'onere della prova perché come si può vedere l'america ma il nasdaq già da un pezzo ma anche il world ha invertito andando a rompere questo questo livello a 3370 quindi non è un bel segnale è normale che il pessimismo avevamo visto già era dilagante con tutte le posizioni short in essere per cui questa è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso si vede in un certo senso si inizia a vedere una capitolazione del mercato quindi generalmente che coincide con dei minimi però non ci sono troppi segnali positivi siamo veramente sul livello anche qui si vede il testo e spalle che c'è anche sullo standard and poor a livelli proprio tecnici quindi è molto importante che diciamo che area 4260 4250 tenga nei prossimi giorni perché è veramente importante sul giornaliero si vedono delle divergenze positive ma se andiamo a vedere il settimanale i mercati sono veramente su dei livelli come si può vedere anche il nasdaq su dei livelli di supporto molto importante se dovesse rompere questo supporto io questo è il mio target che mi do per l'anno del nasdaq ma sinceramente non credevo che ci arrivassimo in in questo periodo dell'anno in primavera lo vedo più probabile per l'estate però dico sono sono delle proiezioni che faccio da tempo l'ho messa lì io non voglio essere considerato come negativo ti faccio vedere il perché non voglio essere considerato negativo ora ti parlo della situazione che stiamo vivendo questo qui per dare un'idea di quello che sta succedendo per quanto riguarda la russia ti faccio capire quanto non sia forse la comunità internazionale è felice che il loro continui a salire questa è la posizione del debito debito americano in mano alla russia come si vede dal 2018 la russia ha continuato dato proprio un segnale forte da 100 miliardi che ne deteneva oggi siamo a 3,9 miliardi quindi dal 2018 i russi hanno smesso di diciamo accumulare debito debito americano già dal 2014 ovviamente le prime sanzioni per la crimea si vede che hanno iniziato a diciamo scaricare il debito americano ma cosa faceva poi la russia la russia questo era il debito il grafico che ti facevo vedere sempre la fonte sempre bloomberg vista in colori diverse questo è il debito che crollava cioè la partecipazione del debito russo americano insomma ci siamo capiti e questa invece era la posizione della tesoreria russe in oro come si vede la russia ha piano piano scaricato oro e ha accumulato ha scaricato debito americano e accumulato su loro e altre riserve quindi si preparava a quello che poi è diventata la guerra in questo momento quindi qual è la situazione beh sicuramente anche se il rublo si sta svalutando e quant'altro la russia comunque ha messo le proprie riserve in in asset diversi da quello che è rubro quindi in altri beni reali che potrebbero essere case o quant'altro adesso nello specifico non ho guardato a cosa ci riferiamo e ora quindi poco importa diciamo per la svalutazione dell'oro perché comunque c'ha 297 miliardi ricordiamoci che la russia ha un debito molto basso circa il 17 per cento del pil ma andiamo a vedere anche questo questo è il pil russo per quanto noi crediamo la russia è un paese diciamo tra virgolette povero quindi in termini di ricchezza a 1400 1500 miliardi di dollari per avere un'idea l'italian a 1886 quindi quasi un terzo di più la germania addirittura 3800 quindi quasi due volte e mezzo più più grande in termini di ricchezza che cos'è il pil lo puoi misurare sia in termini di produzione ma anche in termini anche di 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 redditi dei propri cittadini in questo senso quindi che cos'è che ti voglio far vedere abbiamo un miliardo e 483 miliardi di dollari di ricchezza che viene divisa in una popolazione che è di 144 milioni per avere un'idea l'italia per esempio siamo 60 milioni quindi noi abbiamo una ricchezza media pro capita è molto più alta e sappiamo che non siamo ricchi rispetto a quella che invece la ricchezza del cittadino russo quindi quando oggi noi vediamo e ti faccio questo ragionamento poi non voglio essere frenteso quando noi vediamo che effettivamente la gli scambi commerciali con la russia oggi vengono a fermarsi specie lusso piuttosto che la meccanica piuttosto che l'alimentare sicuramente è un danno però è un'economia piccola pensiamo invece a livello globale che cosa potrebbe dire che cosa succede quando io dico e non voglio essere frenteso che spesso gli indici reagiscono positivamente a queste guerre perché da una parte perdi ed è quello che ci stanno dicendo i giornali perdi in termini di export verso la russia ma dall'altra parte prova a pensare a livello globale che cosa vuol dire che tutti i paesi in questo momento inizieranno a spendere di più in tecnologia a spendere di più in armamenti a spendere di più in difesa a spendere di più se vogliamo anche gente che si farà il bunker nel giardino di casa quindi questa paura aumenterà tutto quello che è il mondo il mondo in spese che prima non erano state messe in preventivo quindi a volte questi shock creano da una parte una perdita ed è quello che stanno un po' tutte le volte colpendo i giornali quindi non fanno altro che raccontarci di questo e dall'altra parte però non ci dicono che per esempio se andiamo a vedere l'indice degli armamenti negli stati uniti nello standard and poor ha sovra performato lo standard and poor negli ultimi vent'anni perché perché tutte queste continue guerre non ha fatto altro che aumentare gli armamenti poi da qui può partire un discorso infinito però questo è un po' il concetto te lo voglio far vedere un'altra maniera ti potrà capitare in questi giorni di vedere cose di questo genere quindi io ne ho strappolate un po' quindi ti fa vedere le varie guerre il golfo afghanistan vietnam l'irac la crimea come si vede l'indice poi è andato bene a parte l'afghanistan ma te le faccio vedere un po' questo per esempio è comparso sul sole 24 ore anche qui ti fa vedere le varie guerre ti fa vedere le proprie statistiche come vedi sono generalmente sempre positive aspetta altre cose che potresti vedere sono per esempio questo ti fa vedere sia il down jones standard and poor e nasdaq le varie guerre che ci sono state ti fa vedere la media quindi leverage a distanza di una settimana un mese due mesi e mediamente come puoi vedere è sempre negativa positiva oppure vedrai questo per esempio l'ho preso da un libro adesso l'ho stampato male però anche questo ti fa vedere tutte le volte che quelle varie guerre che da parte la seconda guerra mondiale la corea andiamo in merut le bombe e tutte l'invasione dell'irac e si vede che comunque il mercato poi è sempre salito queste diciamo in generale sono le cose che ti fanno vedere i mercati per essere positivi ora ti faccio capire come ragiono io cioè come approccio i mercati finanziari e generalmente queste sono le immagini che ci fanno cadere in quegli errori molti parlano di finanza comportamentale in maniera teorica e io adesso invece ti parlo di finanza comportamentale in maniera pratica in questo in questa immagine ci sono i tre classici errori di finanza comportamentale che sono la disponibilità la rappresentatività e l'ancoraggio. Prima di tutto quando noi abbiamo un evento negativo la nostra testa va a cercare subito l'evento negativo nella nostra memoria e generalmente come per gli attentati terroristici ma oppure per le guerre abbiamo che cosa? Il primo ricordo disponibile è appunto a far vedere come Putin può essere uguale a Hitler l'invasione dell'Ucraina è uguale all'invasione della Polonia o dell'Austria se vogliamo prima ancora e sì tutto è possibile però se ci pensi un attimo tutte le guerre iniziano quando un paese invade quell'altro e calpesta la sovranità dell'altro paese quindi tutte le guerre sono uguali non sono tutte uguali a Hitler tutte le guerre sono uguali. Primo errore di disponibilità. Secondo errore di rappresentatività spesso quando noi pensiamo ci viene in mente il caso più negativo nel caso dell'edettore gemelle ecco quello che era successo l'11 settembre 2001 questo è un errore appunto di rappresentatività perché non conosciamo la statistica degli eventi nel senso che quando succede qualcosa pensiamo sempre alla cosa peggiore specie in questo momento di grande pessimismo nel momento in cui è arrivata l'invasione già eravamo a record di pessimisti sul mercato quindi non è stato difficile diciamo il timing è stato buono quello della Russia per far scendere i mercati. Dall'altra parte immagino che magari tutti quelli che sapevano di questo erano al ribasso sul mercato quindi difficilmente i governi se hanno aiutato nel momento della pandemia non vanno aiutare gli indici in un momento in cui qualcuno potrebbe speculare al ribasso conoscendo l'evento che si concretizzerà da lì a pochi giorni e questo è quello quindi il secondo problema rappresentatività cioè non sappiamo effettivamente qual è la statistica di quell'evento e pensiamo solamente all'evento peggiore. Un altro aspetto del problema della finanza comportamentale è l'ancoraggio nel senso in cui oggi i giornali ti parlano solamente di cose negative quindi ti ancorano al fatto che perdiamo il lusso perderà in termini di mercato russo. Va bene il lusso però pensiamoci un attimo ma quanti saranno i russi che possono comprare le scarpe di Prada? Ti ho fatto vedere che già sono poveri alla fine saranno 500 oligarchi che si possono comprare il lusso. Pensiamo per esempio allora se voglio andare a vedere tutte noi siamo comunque dei produttori di strumenti di difesa chiamiamoli così per cui ci sono anche settori che avranno dei vantaggi poi sicuramente magari le banche ne potranno non beneficiare come Unicredit ma che aveva preso un accordo con la Russia ma come sappiamo non è core la Russia per Unicredit quindi questo è un altro problema quindi l'ancoraggio cioè i giornali ti fanno vedere solamente le cose negative. Guardiamo allora io come faccio io generalmente quando ci sono delle cose degli eventi io mi vado a fare le statistiche il grafico non parte bene mi scuso perché non ho trovato più l'ho fatto anni fa quindi non ho più trovato il file originale excel quindi ho ripreso una presentazione io cosa faccio vado a vedere per esempio gli attentati terroristici obiettivi statunitensi mi vado a vedere che cos'è successo in quel periodo oppure mi vado a vedere le guerre come qualcuno mi aveva scritto io ho detto guarda solamente a memoria poi ero andato ma te lo faccio vedere il problema è stato quando scoppiano le guerre e solo a quelle del Kipur del 73 ci sono delle somiglianze se vogliamo una crisi petrolifera e quant'altro quindi ci potrebbero essere delle somiglianze con un rialzo del prezzo del petrolio quindi prendiamolo in considerazione questa perché io non ti sto dicendo sono positivo al cento per cento vi faccio vedere comunque un problema statistico lo affronto da questo punto di vista quindi generalmente le cose sono positive diciamo qui poi sono andato a vedere poi magari ti faccio vedere diverso qualcosa ecco qui si possono vedere le guerre in questo caso questa qui viola è la prima guerra del golfo era iniziata con la prima invasione poi c'è stato il desert storm quando poi è ripartito quindi ha sofferto il mercato per un anno un anno vado a memoria vado proprio a memoria mi sembra che dove c'è la prima guerra del golfo prima guerra del golfo febbraio del agosto del 90 poi la guerra partì mi sembra gennaio del 91 desert storm quindi l'azione proprio vera e propria americana e il mercato ripartì quindi soffrì più o meno per undici mesi l'indice facendo un meno dieci nel periodo un po prima tre mesi primi tre mesi meno undici poi piano piano iniziato a recuperare dopo un anno era in positivo e poi ci sono vari vari aspetti questi sono gli attentati perché qualcuno potrebbe dire ma perché non uccidiamo putin e allo stesso tempo magari loro poteranno pensare perché non uccidiamo biden anche se succedesse tutte le volte che c'è stato un attentato un assassinio di un esponente politico americano poi le borse sono date bene ecco questo è l'approccio detto questo per andare a concludere se no non mi segui più per concludere ti dico la mia visione ovviamente sempre in termini statistici non ho la magica ho sentito un analista a fare questo discorso che non mi è piaciuto ma in qualche maniera va a racchiudere il modo di pensare di approcciare i mercati finanziari da parte dei finanzieri soffriranno le popolazioni soffriranno l'economia ci saranno opportunità sui mercati questo modo che io non condivido di approcciare i mercati finanziari e allo stesso tempo se hai una visione di lungo periodo lasciamo stare che cos'è che ha fatto scendere i mercati cioè chiediamoci se i mercati sono scesi a causa della guerra oppure i mercati stanno scendendo a causa dell'inflazione a causa di un rallentamento economico a causa di aspettative di futuri utili il ribasso ecco ci possono essere questi aspetti probabilmente potrebbe anche essere che appunto come ti dicevo la spesa in tecnologia la spesa in armamenti potrebbe andare a dare un impulso positivo a livello mondiale a quello che invece potrebbe essere l'impulso negativo a livello di rapporti di scambio con la russia la russia è stato soffrendo non ti faccio vedere cosa potrebbe succedere beh io personalmente che dicevo da tempo che sto accumulando sulla cina e accumulare per me cosa vuol dire beh la cina in termini mondiali è il 4 per cento di capitalizzazione della borsa ecco io ho un portafoglio un po più esposto del 4 per cento e stavo andando ho paura che cosa che ci sia una escalation anche da parte della cina e magari potrebbe andare a invadere taiwan nello stesso senso ho paura che potrebbero anche chiudere la borsa come ha fatto poi russia e quindi non essere più proprietario dei miei soldi per cui ho questa paura se vogliamo ecco quindi sono un po fermo sto alla finestra stiamo a vedere i mercati sono su dei supporti molto importanti devono tenere perché vediamo che non vorrei vedere l'italia che rompe su questo livello non vorrei vedere il nasdaq che mi vada a scendere oltre questi questi livelli lo stesso lo standard and poor l'world non è impostato bene ecco quindi sì preoccupazione c'è in termini tecnici per quanto riguarda i mercati nel breve periodo i giornalieri iniziano avere delle divergenze per cui mi aspetto come sempre il famoso rimbalzo c'è grande pessimismo sul mercato c'è incertezza quindi in questo momento bisogna stare non in gozo lo so dirsi non iniziare a dire ho visto gli sconti sul mercato lasciamo stare queste cose stiamo stiamo a vedere si guardano i mercati si seguono i mercati lungo periodo quindi può darci che ci saranno quelle famose opportunità non facciamoci prendere dal panico ci sarà una reazione statisticamente i mercati reagiscono poi potrebbe essere il mercati pura quindi andare a fare un meno 40 questo non lo sappiamo quindi questa è un po la mia visione grazie dell'attenzione metti un like se ti è piaciuto il video continua a seguirmi nei vari social network iscriviti al canale così rimani aggiornato per quanto riguarda i prossimi video e grazie ancora e buona domenica ciao alla prossima settimana